Allora siamo in compagnia dei due atlete, credo tra le più piccole, quante ne avete? 12 12 Nome? Camilla Tu? Alice Allora Camilla iniziamo da te, il tuo stile preferito? Faccio stile, libero Stile libero? Sì Allora senti, come sono andate le gare? Ebbene sono arrivata a quarta nei 400 stile per poco, per 4 decimi Quindi per un pelo hai sfiorato la medaglia, è un ottimo risultato, è la tua prima partecipazione? Beh, l'anno scorso ma non erano proprio italiani con tutti categoria, erano esordienti Ascolta, come ti prepari per una gara? E buh, mi riposo e penso a quello che devo fare Senti, passiamo alla tua compagna di squadra allora, cosa dici? Sì Tu invece come sono andate le gare? Bene Cosa sei arrivata? Non lo so Buon piazzamento comunque? Sì Sei soddisfatta? Sì Allora senti, tu come ti prepari per una gara? E con la concentrazione Ascolti musica? Sì, qualche volta Ragazzi a Riccione voi avete una grande occasione, giusto? Venite un po' più in qua, non abbiate paura, ok Avete una grande occasione perché potete confrontarvi con un sacco di vostri coetanei Ma il consiglio che i vostri allenatori e i vostri genitori vi danno Quello che vi fa più piacere, vi fa più sentire bene, qual è? Quale potrebbe essere? E che ci dicono che è la prima volta che siamo venuti e comunque la gara come va? Se va bene ok, se no non importa perché abbiamo tutto il tempo davanti Tu? Anch'io, lo stesso Ok, allora ci fate un saluto per gli amici di Dolce e Far Nuoto Dite ciao 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 Ciao